Ciao ragazzuoli, ciao a tutti Oggi devo sfonar questi due Perché mi hanno terribilmente Mi hanno terribilmente Mi hanno terribilmente offeso Prima di cominciare a registrare questo video E quindi li devo sfonar Vabbè allora facciamo così, la faccio io e la intro per te Salve a tutti ragazzi qui a Brazica68 Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Mario Kart 8 Poiché giocheremo con i ragazzuoli Poiché affronteremo nuove gare Poiché giocheremo di nuovo Contro Daisy E speravo ci fosse l'abitante Ma l'abitante non c'è Poiché ha avuto paura di affrontarci Poiché tra poco inizieremo Allora Non solo mi hanno insultato Mi hanno insultato Perché prima di questo video abbiamo registrato Abbiamo registrato un altro video E mi hanno preso in giro Mi hanno preso in giro No, comunque Gianfra Ci stai dipingendo quelli che non siamo Comunque ci stai mentendo in maniera incredibile Comunque ragazzi non credete a Blazica A chi credete Siete sinceri Scrivetelo nei commenti Per me credono a me Voi a Blazica Blazica noi vogliamo un bene dell'anima E un grande amico per noi E non lo insulteremmo mai Non è vero Mi avete insultato Ma allora Blazica Allora Blazica Adesso tu mi devi spiegare sta cosa Come cazzarola Ti è venuto in mente Di buttare il guscio rosso all'indietro Me lo devi spiegare Ma come Ma perché l'ho lanciato all'indietro? Sì l'hai lanciato all'indietro Fa finta di nulla Fa finta di nulla Probabilmente L'ho lanciato indietro Perché qualcuno Mi stava Mi aveva lanciato il guscio rosso E io mi sono tipo Mi è venuto la strizza Sì ma devi sta No devi sta attento Perché spesso ti dà l'indicatore del guscio rosso Ma a metà No Scusa Scusa che stavo parlando Ma in realtà Non è diretto a te il guscio Capito? Cioè ti dà l'indicatore Però non è per te Eh non lo sapevo Ma perché l'ho beccato a te? Che è successo? Eh? Guscio L'ho beccato a te? No Uber Gianfranco Eh no Ma cominciamo Vai così Ma c'è il bot davanti Ragazzi ma che stiamo a fare? Vai 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 No allora Fatemi chiare sta cosa Vai dillo Prima di iniziare a registrare Effettivamente mi hanno perculato Quello sì lo devo dire Eh mi avete preso in giro Allora già andrà preso in giro E io vi ho detto Che dovevo sfonare E quindi vedevo sfonare Sta gara Fine Cioè sta Proprio sta partita Vedevo sfonare Vabbè Blazzi Fammi un favore nel frattempo Va Piede sto guscio verde Piedene pure un altro Ma come guscio verde Ma chi lo stai a lanciare? Mirko Eh ma fai un culo Ma piate veramente Pezzo di fango Veramente Ma chi è? Chi è quello col missile Che è già secondo col missile? Ma è vero Ma chi era? Non ero io Che passi Ancora Un atomissile Oh Ragazzi ma che palle oh Ma quante missi Stanno arrivando? Ma che Siamo pazzi Ma vabbò Fangulo treno Ma che Sono pazzi questi Ragazzi sono partiti 300 missi Ma che è successo Regà Ma sono imbazzuti No regà No regà No 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 Cioè io sono arrivato Settimo Settimo regà E Joseph tezzo Va bene Va bene così Va bene così Dai Almeno Joseph Non è arrivato prima Ragà Fuori di testa sta pista Fuori di testa totale Ma fanno messo qualche impostazione Sbagliate Qualche impostazione strana Non lo so Hai attivato qualche hack Per potenziare i bot Perché non si spiega sta roba Ok Poi non potenziava a me Si attivava gli hack Scusa Boh regà Assurdo Potenziava a me Potenziava a Joseph No No io Non Su questa cosa Non ci ho capitato più niente Mi sono ritrovato con Attimo Settimo Non me ne so accorto Ok Comunque dicevo No in realtà Cioè se avessi avuto gli hack Ok mi sarei potenziato un pochino io Avrete potenziato Mirko Joseph l'avrei lasciato così Tanto Joseph lo potenzi Non lo potenzi Cambia niente insomma Nel frattempo Nel frattempo tra tutti e tre Io sono arrivato più avanti di tutti Si si vabbè Non ti passa per la C'è la classifica Cioè non ti passa per la mente Che ti abbiamo fatto arrivare noi Là Che ti abbiamo dato questo vantaggio Guarda Stai dicendo all'inizio del video Vi devo sfondare Poi mi fa arrivare prima Ma che dici Appunto Appunto In modo che poi Perché è una bella sfondata È quando praticamente Tu Ti diamo Diciamo La 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 certezza Che magari stai per arrivare prima Invece poi alla fine No Cuscio rosso No Vai con questo cuscio rosso Vai È stato Mirko Lo sapevo Sì è stato io Vai così Ma vi devo depistare Vai così Allora ragazzi Io Vi do modo Vi do modo Bravo Giuseppe E mi è piaciuto Che te la sei voluta Rischia questa È proprio niente modo Che ho fatto Cioè addirittura ragazzi Tu Beranzo mi fai complimenti Cioè voi vi rendete conto A che siamo arrivati Quindi Blazio Che ne sei proprio fuori No è stato bravo Perché sai Non È rischiosa quella lì Eh bro È rischiosissimo Eh sì Quella è bella rischiosa Infatti Ti freghi Veloce 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 No Sono saluto giù Ma ha portato su Meno male Vai Ma no Ti ha portato dall'altro lato Non mi ha beccato il guscio rosso Bro Perché mi portava la Kitu Ho portato la Kitu fin laggiù Guarda che bordello di gara Ma guarda quei due dove stanno Ci puoi mai credere No Guscio blu Guscio blu Guscio blu Guscio blu Guscio blu vai vai Dammi il clacson Niente clacson Mannaggia Eh lui No 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 Guscio Vai 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 Ma tu pensa che coglione No pure io Ma cosa ho appena fatto Bro Siamo amanti della banana Si vede No ma che dici Ah no Ho beccato comunque qualcuno Con la bomba Nel frattempo Vai 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 Ma cosa ho fatto Sono stupido Non vedevo niente Mi raga Ma c'è qualcuno Che sta risalendo Con la Con la La stella Ma chi è Ma perché Perché il bù Deve rompermi le scatole A me mi deve Leva la protezione Non capisco Me l'ha data A me bro Non so No Me l'ho presa Io la protezione Bellissimo Ah ma perché Hai tirato tu il bù Sì No Guscio blu Guscio blu Ti prego Bomba di merda Bomba di merda No Si Perché ho fatto quella cosa Guarda con che voce Ma perché ho fatto Quello Allora Ragazzi Ho gestito proprio Mago L'ho lanciato La bomba indietro E l'ho lanciato Il guscio rosso avanti Siamo pari Comunque Siamo pari Siamo pari Ancora non se ne andiamo Guarda Guarda due corone Ma che Ma una l'avete fatta apposta Voglio Non è possibile C'avete entrambi due corone Studiate a tavolino Raga non mi potete fa urla Non mi potete fa urla Io vengo da serie Ah tra l'altro Se non l'avete ancora fatto Raga Recuperate la serie Di Luigi's Mansion 3 Sul mio canale Grazie Si spamma Si spamma Fai bene Fai bene Spammone Guarda Va bene Va bene Lo censurerò Sul sito viola Quindi venite Vai 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 Va sul tuo canale Sto video Eh si perché Eh vabbè Scusa Mi ero dimenticato Di dirti Che sei un grandito No Grazie Vai E leva Sto guardarelle Come si chiama Mannaggia Il cazzo è lo guardarello E' l'ospedale E' il Il cosa che è della strada Ah il guardrail Guardrail Il guardarelli E' un ospedale Guardarello Ragazzi state veramente fusi Giuseppe Eh no Cuscio blu Ragazzi Cuscio blu Cuscio blu Cuscio blu E vai In volo Vai vai Magna te Giuseppe Magna te Giuseppe Magna te Cuscio blu Vai Magna te Lutaralla blu Non ti sono venuto Troppo vicino Vai Mirko Meno male Vai 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 così Sì Bravo Giuseppe Bravissimo Il jingle Bravissimo che hai lanciato quel guscio Ti stimo Ma con chi ce l'hai Giambra? Ecco te Ma va fanno Ah mi stimi? Vabbè grazie Mi fai No loco e loco Ma mi lancia sto coso Ma mi lancia sto coso Giuseppe Le vedete la rete Guarda 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 Che pezzo di boomerang Che è quel maledetto Lo sapevo Lo sapevo Scusi Mamma Meno male Ti è acchiappate Acchiappate Guscio Guscio blu Gattini di Mirko Guscio blu Vai così Vai così Vai così Ma io gliela faccio a finirlo un cazzo di video senza un guscio blu Ma ce la faccio o no? Guscio blu Bomba Chi l'hai buttata? Io Stai puntatissimo Giambra No Mirko Perché non mi ha lasciato la sci È automatico Maronna mia Per quanto ho evitato quella banana Non ci credo nemmeno No perché ho lanciato sto cuscio blu Ragazzi Io non so giocare Cioè sono proprio scarso Ma Gianfranco C'è la fiducia in se stesso C'è un uomo di sfrutto Però si batto Però questo è importante Gianfranco ha praticamente cessato di credere in se stesso È ufficialmente Annunciata la cosa No Mirko Mirko No vabbè peccato Va bene Mi fate diventare scurrile Ma ragazzi ma Giuseppe ma che sta facendo Ragazzi ma recuperatelo Giuseppe cambia setup da Miretta bro Che quello ormai ha fatto la muffetta Ha fatto So quattro episodi che ho usato lo stesso setup Ascemo Ma che è Magno dove darà Vai così Vai Fallo male Ma perché l'hai detto stile ubriaco Giuseppe Ma quante corse dobbiamo fare Oddio in realtà non so se era da ubriaco o da stitico Perché se fai Magno È stitico Ma un'altra volta questa Che palle vascello nuvolante Cioè stanno 30.000 gare Cioè 30.000 percorsi Madonna un'altra volta questa veramente Annaggia È il momento della redenzione Adesso Vi faccio mangiare il terallo Mirko comunque prima ha usato qualche scorciatoia E l'ho visto Cioè mi 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 gareggiava in testa È incredibile sta cosa Ha tirato lei in botte l'ho visto io Ha partito pure male Cioè io stavo sotto E Mirko stava sopra È incredibile sta roba Ah quindi tu stavi sotto E Mirko stava sopra Cioè lo sapevo Guarda è incamoroso È camoroso È camoroso Non si lascia scappare un'occasione Per non dire fesserino Mirko ma l'ha detto lui o no? Sì ma Giuseppe Tu comunque sei cambiato Stando con noi Ma te lo dico Vero Vero Una volta eri quello che Non dire palluacce Dicevi Invece mo Una continuazione Eh po' Gianfranco Anche tu un tempo Non dicevi tutte ste caponate E poi all'improvviso è diventato No vai 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 E le vaffangule Perché Dai dai Veloce 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 Giuseppe Arovaia Vananza Nel frattempo Mi ha lanciato il guscio Ma non mi ha preso Ma come L'ho lanciato Ma come non ti ho preso Che ti ho preso Sì Gianfranco Ma hai preso Ma avevo la protezione Guarda Mirko Momente semere Oh yeah Guarda Mirko Guarda Mirko Che ti hanno dato guscio Meno male È andato da Joseph Meno male È andato da Joseph Gianfranco Allora devi mettere La mia facecam Cioè il mio gameplay Non mi ha preso Mi ha superato Ragazzi Non so come è possibile Come hai fatto Come ha fatto Ma ragazzi Che cazzo Ma guarda qua Sti cosi Non mi chiedete come No Ma guarda sti cosi Guscio blu Guscio blu Guscio blu Guscio blu Vai di guscio blu Vai così Sì Vai 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 Giuse che tengo per te Che tengo pronto per te Mamma mia Mamma mia In arsenale Tengo Hai visto come si casa No Ragazzi Ma voi Cioè mi sono arrivati Credo 5 o 6 gusci rossi Oh no Mirko Oh no Mirko No Mamma mia Tengo in arsenale Oh Teneva un bordello di cusci rossi Che non hai idea Giuseppe Giuro Ragazzi Mi fa veramente morire Ma l'ha detto Con tutto lo sdegno possibile Gli fa niente posso pure perdere adesso Gli fa niente Vai Vai Cioè l'ha detto con uno sdegno Uno sdegno incredibile Perché si è rotto No guscio blu un'altra volta E che dai Madonna Guscio blu No Ma perché quel guscio blu Mi ha buttato giù No No Ragazzi l'hanno visto tutti Quello che è successo Ragazzi siete pessimi Siete pessimi Chi mi ha tirato il guscio rosso Io no Mirko È stato Gianfranco Mirko No non sono stato io Non credo Ma lui era finita Era l'ultima gara Terza posizione Condivisa con Cupa Ragazzi Ma che è sta caponata Oh guarda che Guarda e comunque T'ha messo terzo Col coso di bronzo È incredibile Sì 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 Grande T'ha messo sopra lo stesso Ci stai Ragazzi Che dire Che dire Che dire Almeno ha vinto tu Beranzo Almeno quello Tra i video più divertenti Almeno è tornato Tutta la normalità Perlomeno Nel video più divertenti Che abbiamo fatto ragazzi Sì è vero 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 Bellissimo Gianfranco Guà Giuseppe Ora che tengo Arsenal Perché già aveva tre cuscini Rossi E tre funghi Perché se non le beccavo con uno Gli lanciavo il secondo Però i tre funghetti Vandavano veloci Te li sei sbattuti Perché il primo cuscio Che ti ho tirato Ti ha buttato giù Poi li hai usati Te ne ho tirato un altro E si è vero E si è vero È vero Ma di tutto quello che ci avevo Sarà riuscito Solo col primo cuscio rosso A beccare Joseph Per il resto Se ne è andato tutto È incredibile È incredibile come il gioco Mi abbia rubato tutto Il polmi Ma ragazzi Mi fate davvero Mi fate davvero morire Mi fate morire Vabbè Assurdo Assurdo Vabbè comunque Joseph è arrivato terzo Almeno Ragazzi ovviamente scherziamo So che c'è ancora qualcuno Che incredibilmente Se la prende Trattate male Joseph Basta Mi disiscrivo Ma disiscrivete Prima Ragazzi Ma che è giusto eh Cioè Mettici più impegno Sì Che poi Che poi tra l'altro Quello che hai appena detto Blazi è un po' come Quello nella live Che hai detto Saluto ma assoluto Vero vero Allora la censurerò Come cosa Ragazzi Lascio poi i saluti E poi Niente Ci salutiamo dai Ragazzuoli È tornato tutto La normalità La corona è tornata Al suo posto Joseph è tornato Al suo posto Ma la cosa molto positiva È che Blaziken Ha preso il posto Di Joseph E chissà Che magari un giorno Questa corona Io possa decidere Di donarla A lui E lasciarlo vincere Queste sono parole Finale Conclusive Che mi piacciono Vai Joseph Vai Cioè Si sta ribaltando La situazione Cioè Ragazzi Incredibile Vabbè Ancora La situazione È sempre stata questa Io e Blazi Alleati Contro di te Va bene Va bene Vuol dire che Sarò solo In questa grande battaglia Quindi questa battaglia Non è che l'ho persa Diciamo che sono arrivato In una posizione In terza posizione Ma La vera guerra Continua Ragazzuoli Mi piace Commenti Iscrivetei Condividete Link in descrizione Del canale Del ragazzuoli Bordello Ciao a tutti Ciao 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 Lu 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 Lalu lu 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 lu